Siamo qui in una libreria cristiana a Torino, la più grande libreria Cdc con Luigi e voglio lodare al Signore insieme a voi e con un cantico, veramente, Dio e benedica Amen Cdc di Torino, le idee di Ciccia In te ho la vita, in te la mia forza, in te la speranza, in te il Signore Con la vita, in te ho la forza, in te la speranza, in te il Signore Con la forza mia, lodo te, con la vita mia, lodo te Con la forza mia, con la vita mia, la mia speranza è solo in te Con la forza mia, in te la speranza, in te il Signore In te ho la vita, in te la mia forza, in te la speranza, in te il Signore In te il Signore In te il Signore In te, alleluia Gesù mi benedica, grandemente Amen Shalom Tu il nostro, salve il nostro, poi non hai basta